Pescara violenta, ci risiamo. Ormai risse ad armi bianche tra giovanissimi accadono con preoccupante frequenza. L'ultima ieri sera, un quarto dopo le 20 circa, in pieno centro a Via Firenze, all'altezza dell'incrocio con Via Trieste, solito parapiglia generale nei pressi di un bar e conseguente fuggi-fuggi. Un ragazzino sui 15 anni di colore entra con un braccio sanguinante e visibilmente spaventato all'interno della farmacia Migniella, dove viene accolto dal titolare? Si, si è rifugiato in farmacia, tutto agitato, l'ho fatto accomodare, ho visto l'impossibilità, ho chiamato con soccorsi. Ed era pieno di tagli sostanzialmente? Aveva, sì, tagli io non li ho visti, ho visto solamente questo braccio che sanguinava e un foro all'addome, poi non potevo fare altro che chiamare aiuti. L'ho calmato, l'ho fatto accomoda ed era spaventato, agitato. È tutto qui. Immediatamente sul posto le volanti coordinate da Pierpaolo Varrasso, mentre il ragazzino viene trasportato ad urgenza in ospedale, ha diverse ferite vicino al collo, sul braccio e all'addome, ma se la caverà fortunatamente. I contorni dell'episodio però appaiono da subito inquietanti. Le indagini passano gli agenti della squadra mobile. La vittima, ancora spaventata, pare reticente, ma già questa mattina sono emersi sviluppi che stanno aiutando la polizia a chiudere il cerchio. Ulteriori sopralluoghi da parte di una pattuglia di falchi questa mattina per inquadrare meglio la scena, mentre il questore Solimene, da noi contattato, si è limitato a comunicarci di essere impegnati a una serie di incontri, tra cui uno anche con il prefetto, per fare il punto della situazione. Il quadro però sembra essere già abbastanza chiaro. Si è trattato di una furibonda lite tra giovanissimi per dissapori di futile natura. Rasta però nell'opinione pubblica un senso di inquietudine dopo i fatti del parco Baden-Powell di giugno, mentre le forze di polizia, anche ieri estremamente tempestive, fanno quello che possono.